Ciao a tutti ragazzi, qui per Anormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi video molto speciale perché il primo video che registriamo col nuovo telefono che è appunto il nostro premio da influencer nel concorso di Adrenalin XL 2018-2019 la collezione sulla serie A ovviamente, questo è il telefono che abbiamo già spacchettato sul canale trovate il video ovviamente sul nostro canale e questo è appunto il primo video col nuovo telefono diteci se notate differenze di qualità tra video, colori e anche microfono non sappiamo quanto possa essere migliore o peggiore, fateci sapere come vi sembra un po' questo telefono è questo il primo test che facciamo, vediamo un po' come va momento magico dello spedicolamento di un nuovo box ovviamente ora parlando del telefono quasi dimenticavamo di dirvi che questo è un nuovo box il secondo di UEFA Euro, Road to Euro, anzi 2020 lascio alla manita, vado l'onore di lavare il sigillo senza rompere le bustine dentro si è aperto? si è aperto si è aperto e voilà bellissimo, come sempre sempre molto bello riversiamo tutte le buste sul tavolo ne apriamo come sempre sei, quattro parti come al solito, ora non possiamo sapere qual è sul fondo qual è davanti, quindi sono tutte mischiate l'eventuale top master uscirà casissimo, quindi mi prendo due buste da qua niente, ne apriamo due e non tre come spesso facciamo anche perché sennò il box finisce in tre parti praticamente ed è un po' un peccato sei pacchetti vado io col primo e speriamo di trovare card mancanti chissà se troveremo la nostra top master se riusciremo a trovare anche qualcosa di particolare dunque questa dovrebbe essere la rara questa è una base, perfetto Patrick Schick, subito un giocatore anche che gioca appunto in Italia, nella Roma bene poi Nathan Ake McGregor anche con i guantoni direi quindi ci sta tutto poi il centrocampista se non sbaglio del porto Danilo Pereira niente male, un bel giovane James Forrest Curry Forrest e la rara è una fans favorite abbastanza scarsina di valutazioni e Salai dell'Ungheria il cugino di Salai in versione ungherese Salai che battuta squallida ma va bene squalidissima ma ci sta ma le battute nella manita sono le battute nella manita se no che paranormal comics rende senza le tue battute eccesso il comics sta proprio per quello ragazzi è un comics di livello molto molto basso diteci nei commenti se a bollire il comics e lasciare solo paranormal dai dai qualche battuta si salva dai allora la rara disposizione di card diverse penso forse questa no vabbè vai a casissimo tu sono tutte quattro rare solo questa e quella bad immagini dai dai sarà sicuramente così no secondo me ok la rara è subito qui sotto è subito dopo quindi ce la allora ci mascheriamo ci provo non so quanto ok super trick ecco qui vabbè si è vista non fa niente io non ho visto niente manco io vabbè io ho intravisto il colore ok allora Ayan della Turchia poi Vaklik della Repubblica Ceca olè papastodobo non riesco è papastodobo è troppo troppo in realtà lo conoscono più tutti per Socrates che poi per il suo nome è più semplice Socrates mi sembra di sì anche perché non credo papastodobos non ci riesco proprio papastodobos papastodobos no non ci riesco è più forte di me non ci riesco andiamo avanti ah questo è un bel giocatore poi Pavard dalla Francia un bello 84 ragazzi abbiamo dato una bella valutazione questa è la card di prima che in realtà non l'abbiamo visto bene abbiamo Banco della Romania ma ce sei terribile scolidissima andiamo a vedere la rara della Scozia della Scozia se non sbaglio è difensore sembra bella power up ed è oh McCann Defensive Rock Scott McCann Defensive Rock bella bene bene bella bella rarità bello grosso basicamente vado io per forza la malina vediamo un po' allora dai il primo pacchetto di questo box ci lascerà qualcosa di buono speriamo ragazzi siamo partiti con due rare Salai mi sembra lo avessimo McCann non mi sembra ok qual è Mola Rara Sfoglie saprai anch'io l'ho girata al contrario penso sia questa la rara alla fine sì 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 penso di sì vediamo se ho ragione se secondo me se ok McGregor nella versione non pugile ok ci sta ci sta dai questa la concedo poi abbiamo Zaccaria Maxim non era un giornale ok Niges Saul dai Smaichel figlio d'arte assoluto Smaichel è anche molto forte campione delle Easter anche un'altra delle power up bella ed è Forest che l'abbiamo trovato prima stavolta a corso è vinto anche si vede è un game changer infatti è un buon valore d'attacco 86 niente male mica male dai dai molto molto bene ecco non abbiamo ora sotto mano il raccoglitore però dopo ovviamente nei prossimi video vi facciamo sapere se tutte queste card erano doppie è presto penso che porteremo un punto della collezione perché comunque abbiamo aperto un bel po' di bustine per ora a me esce sempre normale il trick beh strano andiamo con Elio Nussi della Norvegia Jorgensen della Danimarca Alvaro Morata della Spagna con un bel 84 d'attacco Sor Loth della Norvegia Bernardo Silva del Portogato ragazzi che in realtà lo mettono dentro la pista secondo me più d'attaccante comunque un bel valore di centrocampo forse un po' bassino l'attacco 77 però una bella card un bel giocatore ancora paura Rear Rear eccola eccola una su 20 pack questa ve lo faccio a vedere è arrivata subito alla prima è lei o non è lei certo alla prima apertura del box card numero 5 100 100 100 100 olé ed è Varan subito subito il quarto pacchetto ragazzi mamma mia Varan dopo Hazard anche Varan mamma mia bellissima spettacolare bella 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 a me questa grafica piace tantissimo se le inquadrature anche con il nuovo telefono rendono la bellezza di questa card che non è particolarmente in rilievo però c'ha questa trama di fili bella proprio veramente molto bella molto simile ovviamente a quelli che sono i top player delle Adrenaline XL di serie A la valutazione è proprio quella là del 300 totale 300 totale spettacolare ottima per il gioco bella card ragazzi abbiamo trovato la card bomba di questo box si presuppone che nel resto non troveremo altre rare eh ma noi ci spereremo forse no una però l'expert era nei pacchetti sfusi se non sbaglio esatto è vero abbiamo trovato noi ragazzi di rare abbiamo trovato tre finora una appunto Pepe era un rare expert e faceva parte appunto di pacchetti presi in edicola e poi nei box che abbiamo preso invece una a testa appunto nel box se qua ne escono due ragazzi sarebbe ancora più bello ma a me dubito perché più o meno non è detto potremmo avere fortuna e trovarne ok ora è venuto bene anche a te il trick insomma allora Delaney dalla Danimarca poi Walker dall'Inghilterra guarda caso mentre cammina va bene ci sta ci sta dai poi dai paesi bassi Cilessen 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 ok bello Ramos dalla Spagna che se non sbaglio abbiamo già trovato qualche volta se non sbaglio Ramos del Lagos di Comos cattivissima questa ok mi fermo per questa misura sono i promessi sposi sì proprio l'incipit del romanzo stiamo troppo italiana ragazzi poi Barkas dalla Grecia e infine la rara che è girata a Velas Barkas a Velas no dai va bene andiamoci a vedere la rarda vediamo senza inluigi senza inluigi ed è uuuu insieme fans favorite 90 d'attacco mamma mia e ci credo che un fans favorite questo mamma mia che bomba che poi ci sarà qualche top master italiano non credo è uno dei primi italiani rari che troviamo non mi sembra però ragazzi bella proprio bella 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 90 d'attacco per essere una fans c'è un valore d'attacco niente male benissima card ragazzi veramente molto bella lasciate un like per queste due belle card ovvero che questa non è particolarmente rara ma è molto bella ragazzi comunque è molto forte c'è un fans di attacco per essere fans favorite per il gioco online ragazzi una 90 d'attacco distruggete tutte le difese avversarie fa paura infatti e andiamo con l'ultimo pacchetto di oggi scuotimento raro un'altra rare sarebbe il top in questo box non credo posa ma se esce spacchiamo tutto spaccate i like ho visto un pezzo di card morire e cadere però tu non abbia ok questa è la rara ok questa è la rara e la mettiamo sul fondo e abbiamo Williams che è il cugino della tennista poi abbiamo Aaron Rams è i ragazzi vicinissimi alla Juve in questo momento è ufficiale ufficiale giusto è vero giusto poi abbiamo Mulgrew grande Ciruzzi e Mob abbiamo l'attacco dell'Italia ragazzi finalmente un bel po' di attaccanti italiani niente card base quindi solo 82 di attacco ci sta ragazzi è tanto è un buon valore l'avranno fatto chissà fans favorite forse non lo so ragazzi non lo so lo scopriremo solo spacchettando si dice da l'Ungheria abbiamo Kleinesler si lo nominiamo così va bene cardarara ultima ed è Tierney del Rising Star però va bene dai ci può stare Rising Star della Scozia ci sta non è famoso direi è un difensore sono un 80 di un Rising Star sono un 80 di difesa ci sta dai sta ancora crescendo devi migliorare deve crescere ragazzi questa è stata la prima apertura del box ci sono ancora tre parti ragazzi ma abbiamo già trovato tanta bella roba siamo partiti a bomba ci mancano 18 pacchetti però nei primi 6 abbiamo trovato due card bellissime ragazzi abbiamo già trovato la Rare che è Varan questo bellissimo Varan ragazzi lasciate un like per lui e lasciate un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi se ancora lo avete fatto beh la parola Marvel Comics è tutto e riuscivitevi in un prossimo video bella